Associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsioni aggravate commesse avvalendosi del metodo mafioso e reati in materia di armi. I carabinieri del comando provinciale di Palermo alle prime a luce dell'alba hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Palermo su richiesta del locale e direzione distettuale antimafia nei confronti di 5 persone, quattro alle quali ristette in carcere e una sottoposta agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Il provvedimento restrittivo scaturisce dalle indagini condotte nel periodo 2021-2023 dal nucleo investigativo del comando provinciale di Palermo i cui esiti avrebbero documentato da un lato il rientro a pieno titolo di pregiudicati mafiosi dopo lunghi periodi di detenzione nelle file della famiglia mafiosa di Carini. Dall'alto l'inserimento di giovani associati appartenenti a famiglie di sangue che storicamente hanno diretto lo scacchiere mafioso carinese. Secondo gli investigatori le risultanze delle indagini che nel settembre del 2022 hanno già portato all'arresto di tre persone per il reato di scambio elettorale politico mafioso consentirebbero di delineare gli assetti interni della famiglia mafiosa di Carini inserita nel mandamento di Tommaso Natale San Lorenzo e di individuare le presunte responsabilità dei singoli associati anche in ordine ad alcune estorsioni commesse nell'ambito delle mediazioni immobiliari attraverso le cosiddette sensalerie. Dalle investigazioni è infine emerso che i vertici e l'associazione mafiosa avrebbero gestito una condotta idrica abusiva mediante la quale dietro pagamento fornivano acqua per uso civile a una consistente fetta della locale popolazione che non aveva altre possibilità di approvvigionamento.